La legge sul tema è chiara. Nonostante l'assessore manifesta, ci pare, un chiaro disinteresse per la stessa. Lei, ex senatore della nostra Repubblica, uomo che teoricamente dovrebbe essere delle istituzioni, credo che capisca benissimo l'opportunità politica. Qui non si tratta di valutazioni amministrative, qua si tratta di valutazioni anche politiche. E mi viene da pensare, c'è chi viene pagato a Roma per fare una spending review, ma non stiamo sprecando dei soldi per questi processi che sono iniziati su questo tema? Insomma, quelli sono sempre soldi pubblici, ci lamentiamo che la giustizia funziona male, che va lenta e noi riempiamo, noi istituzioni, riempiamo i tribunali di processi a nostro avviso inutili. Quindi qui non si tratta di garantismo, ma le chiediamo semplicemente di rispettare la legge. Insomma, non vediamo, capiamo questa sfida probabilmente che lei è nata con la magistratura, non so, con questa guerra di tipo politico. Però riteniamo che sia doveroso per lei, visto che va in giro a rappresentare la Lombardia e ne ha avuto un mandato elettorale, che lo faccia a pieno nel rispetto davvero dei cittadini. Grazie. Consigliere e consiglieri, l'interrogazione odierna consente ancora una volta, speriamo in via definitiva, di ribadire procedure e concetti già più volte espressi in passato. Convinto infatti che quest'Aula abbia questioni e priorità ben più importanti che dover ritornare su una situazione che non esiste, se non in virtù delle azioni talvolta pretestuose che si continua anche quest'oggi ad alimentare, soprattutto da alcune forze politiche. Ritengo dunque questo ripetersi non solo inutile, ma improduttivo per i Lombardi. Questo soprattutto considerato il fatto che, sottoscritto come previsto dalla norma vigente e nel rispetto delle leggi in vigore, abbia già comunicato dal luglio scorso la propria opzione. Con lettera protocollo 4564 del 4 luglio scorso, inviata al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta, così scriveva, vista la nota in data 26 giugno 2013 con la quale mi invitava ad esercitare l'opzione tra il mantenimento della carica di consigliere regionale oppure di sindaco del Comune di Arconate, con la presente comunico formalmente di esercitare tale opzione decidendo il mantenimento della carica di consigliere regionale. La mia scelta è dunque da tempo chiara, definitiva, risolutiva e incontrovertibile. Da allora non ho più partecipato ad alcuna riunione di giunta o consiglio, non ho più indossato la fascia tricolore, non mi sono più recato in municipio, insomma ho concluso ogni impegno collegato alla carica di sindaco. Se devo cambiare residenza magari mi darete informazione. Non esistono dunque dubbi di nessun genere in merito alla legalità e alla correttezza istituzionale da me applicati. Esiste però una vicenda politica che il gruppo consigliare locale di maggioranza ha deciso di sostenere. La legge 267 del 2000, testo unico sugli enti locali, prevede infatti che la decadenza, per essere tale, debba essere ratificata dal Consiglio Comunale, che è stato regolarmente convocato dal Vice Sindaco il 4 agosto del 2013. In quella sede i consiglieri di Arconate, nella loro autonomia sancita dalla Costituzione, dalla libertà di voto di cui sono dotati grazie alla democrazia di questo Paese e nel rispetto del mandato popolare, ribadito sempre dall'articolo 1 della Carta Costituzionale, comunicavano di non votare a favore della decadenza attraverso le seguenti motivazioni. Anche se il Sindaco ha esercitato l'opzione, scegliendo per la carica di consigliere regionale, nel rispetto delle leggi vigenti e di fatto non partecipa più all'azione amministrativa ormai dal 4 luglio scorso, riteniamo, dicono i consiglieri di Arconate, che una norma da noi non condivisa non possa impedire ai cittadini di essere governati da chi hanno liberamente scelto. Votare a favore di questo punto, all'ordine del giorno, significa di fatto tradire la volontà espressa dai cittadini. Questo è quello che pensano i consiglieri di Arconate, di cui io non sono parte. Certamente i consiglieri di Arconate hanno dimostrato, direi con coraggio, nel manifestare liberamente la loro scelta in modo così ufficiale, nonostante le veementi e facinorose dichiarazioni della minoranza locale. Tuttavia, come già ricordato in altre sedi, ho deciso di scrivere formalmente a ciascuno degli attuali componenti di maggioranza, inviando una lettera ufficiale il 3 settembre scorso, e in tale documento chiedevo cortesemente ai consiglieri comunali di considerare la mia opzione per Regione Lombardia. Il Consiglio Comunale, riunitosi così in data 30 settembre 2013, in merito alla proposta avente per oggetto presa d'atto dell'opzione esercitata dal Sindaco in favore della carica di consigliere regionale, approvava all'unanimità dei presenti la proposta, prendendo atto dell'opzione del Sindaco e di trasmettere l'atto alla Prefettura di Milano. Ora, la Prefettura ha deciso legittimamente di sollecitare il Tribunale per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, al fine di determinare in via definitiva la questione, esaminando dal punto di vista normativo la fattispecie di presa d'atto e di ratifica rispetto alla dichiarazione di opzione prevista dalla legge che il sottoscritto ha esercitato. E, come sapete, il Tribunale, riunitosi nei giorni scorsi, ha valutato il rinvio della discussione nel prossimo mese di febbraio. Il giudice aveva proposto di rinviarla dopo le elezioni che si saranno la prossima primavera, ma poi hanno convenuto di farla il 13 febbraio. Ringrazio dunque il Prefetto per l'attenzione che ha rivolto ad Arconate, mio comune di nascita e di residenza, ai fini della necessaria chiarezza sull'esatta interpretazione della legge. E sono certo che la giustizia, più volte citata in quest'Aula e nel Paese, come elemento salvifico e risolutore dei problemi dell'Italia, potrà dare il suo definitivo contributo che attendiamo sereni. Mi auguro dunque che dopo questo ennesimo approfondimento si possa attendere il risponso delle autorità preposte, dedicando il nostro tempo di consiglieri lombardi ad attuare il programma elettorale per il quale siamo stati eletti. Sì, grazie Presidente. Tanto avevo appunto chiesto di non giocare sul filo delle burocrazia e delle passaggi amministrativi, però lei legittimamente lo ha fatto in qualità di membro della Giunta e mi sembra che sia proprio un onore per Berlusconi avere lei nel partito, visto che anche lei è vittima di questi giudici che vogliono protrarre, non vogliono aiutarla a compiere quello che lei invece vorrebbe fare, ha manifestato presentemente nel suo Consiglio Comunale. Quindi vedremo il 12 febbraio cosa succederà. Ci permetta di considerarla che lei è un asso pigliatutto, nel senso che è veramente una persona che riesce a fare tantissime cose e insomma il cambio a residenza sappiamo che non cambierebbe la situazione, lei lo sa benissimo, dato che ha più esperienza di noi in termini amministrativi. Però credo che lei, col suo ruolo politico, non credo che non abbia la forza per far capire ai suoi consiglieri comunali quando serve, cosa è giusto fare e quant'altro. Chiudo ricordandole che noi siamo qua in opposizione, è giusto che siamo a controllare. Noi abbiamo un programma elettorale, ma sfortunatamente, come dico spesso, non abbiamo vinto le elezioni. Quindi invito di conseguenza chi ha un programma elettorale sul quale i cittadini hanno dato fiducia a portarlo avanti, prima di chiedere all'opposizione, dato che l'opposizione ha presentato tantissime cose e ci auguriamo che vengano calendarizzate. Grazie e buon lavoro.